Dopo due settimane di vacanza, Endless Love si prepara, nella settimana dal 26 al 30 agosto 2024 a tornare in onda, su Canale 5, a partire dalle 14.10 circa. Un ritorno alla grande dato che arriverà con una novità importantissima, la serie turca, infatti, esordirà in prima serata, nella giornata del 30 agosto con un doppio appuntamento. Daremo l'addio alla prima stagione e accoglieremo la seconda con tutte le sue vicissitudini ed emozioni. Ma cosa succederà, nello specifico? Attenzione perché la vita di Emir, stavolta, sarà appesa a un filo. Trama di Endless Love di lunedì 26 agosto 2024. L'atmosfera della festa non piacerà a Nian che se ne andrà portando con sé la lettera di Kemal. La leggerà, con le lacrime agli occhi e, subito dopo lo scambio di anelli tra Asu e Kemal, si sentirà male. Ozan e Zeynep, nel frattempo, saranno condotti al molo come da ordini di Emir. Trama di Endless Love di martedì 27 agosto 2024. Nian, svenuta, verrà portata in ospedale per degli accertamenti medici. Verrà fuori qualcosa di sconvolgente. Ozan, nel frattempo, finirà in galera, vittima di una tremenda crisi di panico. Qualcosa non tornerà a Kemal. Per il giovane dietro l'allontanamento di Zeynep e Ozan non può esserci altro che Emir. Trama di Endless Love di mercoledì 28 agosto 2024. Mujeygan sarà circondata da Asu e Emir. Asu cercherà in ogni modo di tenere lontano il fratello. Ma nonostante tutto, sarà una notizia incredibile che Emir le comunicherà a costringere Asu a fare un passo indietro. Continueranno, invece, le tensioni tra Kemal e Nian che avranno accuse reciproche e pesanti da scambiarsi. Trama di Endless Love di giovedì 29 agosto 2024. Emir deciderà di ordinare l'aborto di Nian, e si metterà d'accordo con i medici in modo che la stessa non se ne renda nemmeno conto. Nian verrà quindi sedata per procedere con l'intervento, ma improvvisamente Emir deciderà di interrompere tutto. Ozan, nel frattempo, starà sempre peggio. Le sue condizioni mentale saranno in netto peggioramento preoccupando tutti. Trama di Endless Love di venerdì 30 agosto 2024. Nella giornata di venerdì 30 agosto 2024, Endless Love esordirà di sera. Andrà, quindi, in onda, la classica puntata pomeridiana che, però, la sera, verrà seguita da altri due appuntamenti serali. Puntata pomeridiana. Kemal, grazie all'intervento di un hacker, avrà la conferma. Tra Zeynep e Emir c'è stata una relazione. Sarà furibondo e deciso a farsi giustizia con le proprie mani. Nel frattempo, non lo saprà, anche Emir deciderà di eliminarlo ma non vorrà farlo direttamente. Ordinerà a Tufan di farlo. Puntata serale. Kemal riuscirà a estorcere a Zeynep la confessione in merito ai suoi rapporti con Emir, e sarà a quel punto che Kemal deciderà di raggiungere Emir per porre fine a tutto. Mentre Tariq si sposerà con Banu praticamente di nascosto, Galip avrà una quasi certezza. E se Asu fosse sua figlia? Delle foto anonime metteranno Ozan, in carcere, al corrente del tradimento di Zeynep mentre Emir sarà in fin di vita e dovrà andare sotto i ferri per un delicatissimo intervento. Il tutto si concluderà con Kemal dapprima in tribunale e successivamente in carcere con accuse pesantissime. Ed Emir, che ne sarà di lui? Manca davvero poco per scoprirlo? Endless Love, infatti, tornerà presto in onda con la fine della prima stagione e il debutto della seconda. Una cosa è certa. Ne vedremo davvero delle belle. Da non perdere.